Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un caloroso buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori In attesa di Brescia e Fiorentina in programma lunedì 21 ottobre per l'ottava giornata di Serie A Vanno in campo le nazionali e alcuni Viola sono impegnati anche in questi minuti In particolare Vlaovic e Terzic che con la Serbian del 21 sono a caccia della prima vittoria nel girone contro la Bulgaria Domani invece toccherà la nazionale azzurra di Federico Chiesa che con un eventuale successo a Roma contro la Grecia Strapperebbe matematicamente il passe per Ero 2020 I reduci Viola delle nazionali invece tra poco saranno impegnati contro la Pistoiese Per una sfida amichevole allo stadio Marcello Melani di Pistoia Infine dopo le dichiarazioni di Nardella contro il nuovo stadio nel territorio di Campi Arriva la risposta del sindaco del comune Limitro Falcapologo Toscano Che si dice sorpreso e ribadisce la disponibilità ad accogliere il nuovo progetto Insomma un batti e ribatti che avrà ancora tanti sviluppi e tanti protagonisti Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano